Ben trovati con questa nuova edizione del nostro telegiornale. In primo piano la situazione è al collasso del pronto soccorso del Vittorio Emanuele. Mancano i posti, i pazienti sono costretti ad attendere sulle poltroncine e mancano anche le barelle. Una situazione di emergenza che spesso fa alzare l'attenzione all'interno del reparto. Gli operatori sono ormai al limite a confessarlo a telecamere spente per paura di ripercussioni disciplinari. Spesso di turno c'è solo un medico che deve far fronte a decine e decine di richieste dalle più gravi a quelle di routine. Se non si interviene presto la situazione può solo peggiorare. Posti ormai pieni, i pazienti covid in aumento e a contatto con quelli non covid. Chi ha bisogno viene adeggiato sulle poche poltroncine disponibili. Il pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele continua a essere in emergenza. Mancano medici e il poco personale fa fatica a sostenere un carico di lavoro enorme. Scarseggiano pure le barelle. Una situazione di emergenza che spesso fa alzare l'attenzione all'interno del reparto dove i pazienti sono costretti a estenuanti tour de force per ricevere le cure necessarie e dove i parenti aspettano ore all'addiaccio senza ricevere alcuna notizia. Ma l'emergenza del pronto soccorso è solo la punta dell'iceberg di un ospedale in enorme difficoltà dove i reparti chiusi superano di gran lunga quelli aperti, dove mancano i posti letto e dove il personale medico e infermieristico sopporta turni estenuanti per riempire i vuoti causati dalla carenza di organico. A confessarlo, a telecamere spente per paura di ripercussioni disciplinari è proprio un operatore del reparto di emergenza del Vittorio Emanuele. Spesso di turno c'è solo un medico che deve far fronte a decine e decine di richieste dalle più gravi a quelle di routine, racconta, e così i tempi si dilatano all'infinito. A peggiorare le cose è la chiusura del pronto soccorso infettivologico che sarebbe dovuto servire a sgravare il reparto ordinario dai casi di Covid. Se oggi arriva un paziente con i sintomi sospetti da coronavirus si blocca tutto, racconta l'operatore. Bisogna aspettare l'esito del tampone e poi sanificare l'intera zona. Basta che durante un turno ne arrivino due e il reparto esplode. Noi siamo il front office dell'ospedale continua. Da noi arrivano tutti i pazienti che poi dovrebbero essere smistati negli altri reparti. Ma se non ci sono posti letto disponibili, come si fa? C'è una signora che è arrivata in pronto soccorso con un polso fratturato ed è da una settimana che aspetta di essere ricoverata. E lo stesso accade con le sospette ischemie, dato che non c'è più un neurologo disponibile. Tutte queste sono carenze che il management di ASP e i vertici del nosocomio non sono ancora riuscite a risolvere in una struttura che dovrebbe fare da punto di riferimento ma che in realtà è ridotta ai minimi termini. Ci facciamo in quattro per fare il nostro dovere, conclude l'operatore, e ci pigliamo anche gli insulti e le minacce dei pazienti che non capiscono che più di così non possiamo fare. Se non si interviene presto, la situazione potrà solo peggiorare. La cronaca, paura e preoccupazione in via Recanati. Questa mattina sono dovute intervenire le forze dell'ordine e mezzi di soccorso compresi quelli della Procivis. Una donna ha minacciato di gettarsi dal balcone della sua abitazione. Si sta valutando la situazione. Non è chiaro se la donna sia in condizioni alterate. La politica e i civici di una buona idea si concedono da Greco. Ieri il direttivo del Movimento ha deciso che non ci sarà alcun ritorno in giunta a una scelta politica successiva all'azzeramento. In questi tre anni il gruppo in giunta ha fatto riferimento all'ex vice sindaco Terenziano Di Stefano. Il rapporto politico tra il sindaco Lucio Greco e i civici di una buona idea si è chiuso. Già martedì nel corso della riunione voluta dall'avvocato con tutti gli alleati della prima ora proprio il gruppo ha preso tempo per valutare. Ieri sera si è tenuto un confronto interno al Movimento. Il direttivo si è espresso per non rientrare in giunta. In questi tre anni i civici hanno fatto riferimento all'ex vice sindaco Terenziano Di Stefano. L'avvocato greco avrebbe voluto un ritorno del suo ormai ex vice. Né Di Stefano né il resto dei dirigenti del Movimento sono apparsi convinti rispetto alla retromarcia del primo cittadino che due settimane fa ha zerato per avvagliare l'opzione del centrodestra. Dalla sindaco i civici si attendevano obiettivi precisi per arrivare a fine mandato ad iniziare dagli interventi per cercare di scongiurare il dissesto. Ad oggi pare non abbiano intravisto alcuna chiarezza. Senza una buona idea in giunta Greco perde un pezzo importante dell'alleanza quello che di fatto contribuì al progetto di tre anni fa sostenendo la sua candidatura. Il zeramento anticipato dalle dimissioni che l'avvocato ha chiesto a Di Stefano e gli altri assessori rimasti ha praticamente segnato il confine politico che ora i civici hanno varcato uscendo da una prospettiva di presenza attiva nel governo locale. C'è già chi inizia a dire che non verrà meno il sostegno alla città anche senza la presenza in giunta. Già ieri sera il vice sindaco Di Stefano dopo aver comunicato la decisione al sindaco ha spiegato che per una buona idea non esiste un appoggio esterno. Verranno valutati gli atti e se utili alla città e rientranti nelle linee che persegue il movimento saranno sicuramente votati. Il lavoro dello sesso Di Stefano, dei consiglieri Davide Sincero e Rosario Faraci, del segretario Rino Licata e del resto del movimento in questi anni di governo della città si è concentrato principalmente intorno ad un target considerato strategico, quello dei programmi di finanziamento. L'ex assessore ha coordinato tutti i capitoli che hanno consentito di ottenere i decreti attivando linee come agenda urbana, rigenerazione urbana e qualità dell'abitare. Da ultimo, proprio prima dell'azzeramento, è partito il nuovo tavolo operativo per la programmazione regionale 2021-2027 che ricomprende Gela come aria urbana funzionale con una potenzialità da 70 milioni di euro. Per Di Stefano la decisione arriva da una valutazione politica anche se c'è comunque amarezza. I civici ribadiscono che il lavoro fatto è stato difficile ma ha portato avanti sempre con coerenza. Una decisione, quella di non rientrare in giunta, che per il gruppo conferma come non ci fosse alcuna volontà di rimanere attaccati alle poltrone. E' traffico rallentato su un tratto di corso Salvatore Aldisio. Questa mattina un incidente stradale ha coinvolto uno scooter e una vettura. L'impatto è stato violento. Sul posto sono arrivati gli agenti della Municipale per i rilievi. Non ci sarebbero comunque feriti in condizioni preoccupanti. Il rilancio del tessuto industriale sul territorio per uscire dalla crisi di questi anni è stato questo uno dei temi del quarto congresso della Filctem CGL che ha portato in città i vertici locali, regionali e nazionali. Sentiamo. Quarto congresso per la Filctem CGL che questa mattina ha riunito i vertici locali, regionali e nazionali per il rinnovo delle cariche sindacali. Inevitabile fare il punto sull'ultimo anno trascorso. Punto di arrivo di un periodo difficile che parte dal post-conversione della raffineria arriva fino alla crisi energetica di oggi, passando per i due anni terribili della pandemia. A tracciare un bilancio è proprio Gaetano Catania, segretario uscente della Filctem, che ha introdotto i temi nella sua relazione iniziale. Questo è stato un anno, direi, drammatico per la situazione che si è venuta a determinare. Prima con la pandemia e poi con la guerra in Ucraina che ha fatto aumentare notevolmente l'inflazione, i costi energetici sono aumentati notevolmente, ma noi partiamo a fare un ragionamento invece a livello locale. Cosa ha prodotto tutta questa realtà? Noi partiamo dal fatto che avevamo un petrochimico. dal petrochimico abbiamo fatto un accordo dal 2014 lungimirante che ci doveva permettere nel proseguo nel territorio di consolidarsi. Qualche realtà come la raffineria si sta consolidando. Abbiamo altre realtà nei servizi di SCC che continuano a crescere e andare avanti. C'è il servizio di Enir e Wind che continua a lavorare e sta facendo le bonifiche. Una dolente nota è ancora Argo Cassopeia, perché da un lato ci dicono che il progetto sta andando avanti, dall'altro lato ancora non vediamo l'evoluzione delle cose, non vediamo che questa realtà si concretizzi. Secondo il sindacato la soluzione per uscire dalla crisi è proprio lo sviluppo del tessuto industriale locale. L'idea che non si può prescindere di avere un tessuto industriale è la cosa fondamentale. Il territorio gelese deve partire da questa impostazione, che ci vuole un tessuto industriale che permette di far ripartire questo territorio. E su questo un elemento fondamentale su cui noi punteremo nei prossimi mesi è quello che Eni deve continuare a mantenere e a riprendere un nuovo tessuto industriale nel territorio per consolidare e per fare nuova realtà occupazionale. perché ancora noi siamo in una situazione dove, chiusa la fabbrica, molti lavoratori sono andati in giro per l'Italia. Abbiamo fatto sì che alcuni lavoratori sono rientrati, però noi vorremmo anche una nuova occupazione in questo territorio. In questa maniera siamo fermi con un numero di persone che è quello riferito all'accordo del 2014. Vorremmo incrementare nel territorio il tessuto occupazionale e questo lo possiamo fare se Eni ha l'intenzione ancora di contribuire allo sviluppo di questo territorio. Quindi chiediamo a Eni che condini quell'idea che aveva una volta, che questa realtà può dare ancora un ulteriore contributo a livello industriale. Sono oltre una cinquantina i negozi sfitti all'interno del centro storico cittadino, in pratica un'attività su tre. Gli affitti sono stratosferici, i negozi sono sempre più stretti nella morsa tremenda della crisi. Una situazione destinata a peggiorare se non si interverrà in tempi brevi, come conferma Antonio Rubio, responsabile di Casa Artigiani. Un barlume di speranza arriva però secondo Rubio da tanti giovani imprenditori che ancora oggi scelgono di investire in città attraverso il microcredito. Anche lì però ci sono i costi di gestione a bloccare tutto, a questo si aggiunge il problema della sicurezza. Troppe attività hanno subito furti, rapine e danneggiamenti. In centro è così, i commercianti scappano. Rubio lancia un appello ai cittadini affinché durante queste feste comprino locale. Fuori dal municipio c'è già chi cerca di sondare gli umori dei potenziali alleati in vista del dopogreco. Italia Viva punta ad una coalizione omogenea che sia l'alternativa all'attuale amministrazione greco. Sentiamo. Se il sindaco Lucio Greco si appresta a varare la nuova giunta per arrivare a fine mandato con non poche diatribe politiche da superare fuori dal municipio c'è già chi sta cercando di individuare le giuste basi per un'alternativa. Il coordinatore provinciale di Italia Viva Giuseppe Ventura fa capire che seppur con un profilo basso incontri e primi contatti sono in corso, al momento preferisce non sbilanciarsi, le informazioni verranno fornite successivamente. Però Italia Viva c'è e vuole lavorare per una coalizione alternativa a quella del sindaco Greco, un progetto che vede il gruppo locale in prima fila. Ma non pretendiamo nulla, precisa avventura. Il partito aveva scelto di stare con l'avvocato greco schierando in giunta l'ex assessore Cristian Malluzzo che si è occupato di un settore strategico come quello dell'ambiente e dei rifiuti. La visione gestionale del Renziani non ha trovato riscontro in quella del sindaco e le strade si sono divise. Italia Viva ora in federazione con azione di calenda ha tentato il colpo delle nazionali puntando tutto sull'avvocato Emanuele Maganucco. Il risultato che non ha consentito di arrivare all'obiettivo dell'elezione è stato comunque interpretato come un primo approccio con la città sul piano elettorale. Con più esperienze il gruppo cittadino vuole riprovarci per le prossime amministrative. Il progetto greco l'hanno chiuso uscendo dalla giunta. Per ventura non ci sarà più alcuna esperienza arcobaleno. Si lavora per una coalizione ampia ma omogenea. Non è una questione di destra o di sinistra. Si parla invece di punti programmatici e chi vorrà sostenerli e condividerli potrà quindi provare a governare la città. Il perimetro del progetto in costruzione è ancora lo stato embrionale ma i renziani si stanno muovendo e non sembrano trascurare nessun fronte. Per ventura comunque una cosa è già chiara. L'azzeramento infatti deciso dal sindaco non è nulla di nuovo. Per ventura greco continua a governare scaricando tutte le colpe sulle passate gestioni amministrative. Allo stesso tempo l'auspicio è che comunque si riesca a salvare la barca dei conti dell'ente comunale. Italia Viva ormai messo in archivio greco e sta impostando un progetto che potrebbe mettere insieme più pezzi in attesa di capire su quali presupposti politici potranno muoversi. Ancora una volta per cercare di attenuare i disagi dovuti alla mancanza di manutenzione e di pulizia sono i residenti a scendere in strada e a mettersi al lavoro. È accaduto nella zona di via Nibalcaro addosso di via Crispi. Un'ampia area verde era stata lasciata all'abbandono diventando un ricettacolo di rifiuti ma anche di carcasse di animali morti e di siringhe. I residenti con tutti gli attrezzi del caso hanno effettuato una pulizia generale bonificando l'area verde e delimiando le sterpaglie. Ormai da anni questa zona continua ad essere dimenticata nonostante ci vivano centinaia di famiglie in un'area molto popolosa. Chi vive ora si attende che perlomeno si probeda a ritirare i sacchi con sterpaglie e rifiuti e chi vive nel quartiere inoltre ritiene necessaria la potatura delle palme sempre che gli stessi residenti non siano costretti a intervenire anche in questo caso. La cronaca giudiziaria e i giudici della Corte d'Appello di Caltanissetta hanno confermato le condanne emesse in primo grado nei confronti di due imputati accusati di aver gravitato intorno al gruppo mafioso degli Alfieri. Entrambi furono coinvolti nell'operazione Inferis. Sentiamo. Sono state confermate le condanne per Rosario Consiglio e Francesco D'Amico. La decisione è stata formalizzata dalla Corte d'Appello di Caltanissetta. La richiesta è arrivata dalla Procura Generale nel giudizio di appello legato all'inchiesta antimafia Inferissi. Ricorsi in secondo grado sono stati proposti dalle difese di Consiglio e D'Amico, entrambi ritenuti responsabili di essere stati vicini al gruppo di mafia degli Alfieri. Il collegio penale del Tribunale di Gela impose la condanna a 5 anni e 6 mesi di reclusione ciascuno, decisione che è stata confermata dai giudici nisseni. L'inchiesta consentì di fare luce su quella che gli investigatori definirono subito terza mafia autonoma da Cosa Nostra e Stidda. Fu coinvolto anche il boss Peppe Alfieri, poi recluso sotto regime di carcere duro. Altri imputati in primo grado vennero assolti. Le difese di Consiglio e D'Amico, sostenute dagli avvocati Salvo Macriero, Sareo Prudenti, hanno nuovamente contestato gli addebiti mossi e due imputati. È stata respinta ogni ipotesi di una loro appartenenza al gruppo criminale. Non avrebbero mai avuto un ruolo in danneggiamenti o richieste estorsive. Le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Emanuele Cascino, ex braccio destro di Peppa Alfieri, per le posizioni di due imputati non avrebbero mai trovato riscontro concreto. Questa è stata la linea difensiva. Gli imputati si sono detti estranei alle dinamiche del clan. Consiglio spiegò di essere stato vittima subendo anche l'incendio della propria attività di vendita di frutta e verdura. D'Amico invece è legato da rapporti di parentela alla famiglia Alfieri, ma per la difesa questo non può giustificare le accuse che gli sono state rivolte. Nel corso del giudizio di appello è stata riaperta all'istruttoria proprio per sentire alcuni testimoni. I giudici hanno confermato la decisione del collegio penale della Tribunale di Gela. A questo punto le difese potrebbero scegliere di rivolgersi alla Corte di Cassazione. L'Istituto Comprensivo Don Bosco ha inaugurato ieri pomeriggio il presepe vivente che per tre giorni sarà animato dagli allunni della scuola primaria e secondaria di diversi plessi. Il progetto del presepe vivente ha lo scopo di creare l'atmosfera natalizia dando spazio a sentimenti e il piacere di stare insieme facendone un'occasione di incontro con le famiglie e con la realtà del territorio. Esso consente di sperimentare forme spontanee e organizzate di partecipazione delle famiglie all'esperienza della scuola e di favorire la nascita di un sentimento di appartenenza, disponibilità e collaborazione. E torna il terzo concorso. Per il terzo anno il concorso Junior Chef per gli alunni delle scuole medie di Gela, il concorso indetto e ospitato dall'Istituto Alberghiero della Città è stato organizzato in occasione dell'Open Day per studenti e famiglie. Torta della Festa è il tema della competizione che ha coinvolto oltre 40 alunni delle terze medie di Gela e che torna per la sua terza edizione. È un concorso importante perché per la prima volta si possono cimentare in ricette, voglio dire, non è che saranno ricette difficilissime, ma anche un modo di conoscere il professore, il proprio insegnante sotto un punto di vista diverso, che non è quello prettamente didattico, ma di compagno di gioco. Ecco quindi un gioco, un concorso che lascia tanto spazio al divertimento. Oggi abbiamo unito questo concorso particolarissimo nei confronti delle ragazze della terza media che hanno partecipato veramente in massa e questo ci rallegra e in particolare l'Open Day per dare la possibilità sia alle famiglie sia ai futuri ristoratori o esperti enogastronomi di venire a visitare la nostra scuola. Gli studenti concorrenti che, accompagnati dai loro docenti, hanno ricevuto in dotazione la divisa completa di cucina. Oltre all'attestato e alla medaglia di partecipazione, si sono cimentati mettendosi in gioco con la loro creatività e fantasia nella realizzazione di una torta dedicata ad un evento speciale. Abbiamo pensato di, con la scuola ci hanno proposto questa attività, di partecipare a una nuova iniziativa e abbiamo deciso di partecipare noi due, come per rappresentare la nostra classe. Oggi hai voluto partecipare a questo concorso lo stesso, per quale motivo? Perché è una nuova iniziativa e per rappresentare anche la nostra classe e fare nuove cose. Quest'iniziativa come l'hai vissuta? È stata una bella iniziativa anche perché è un'esperienza che ti fa allegare anche con i professori e anche con i compagni in cui magari non riesci a restare in un bel rapporto in classe. È un'esperienza che ti fa fare anche nuove amicizie e conoscere anche nuovi istituti. Mi è sempre piaciuto e oggi finalmente posso mettermi nei panni di un pasticcere. Per me è una cosa bellissima, preparare una piccola torta con il mio professore e anche con i miei compagni. Mio papà prima era pasticcera e io voglio essere pure pasticcera. L'importanza di formare anche attraverso questi open day, questi piccoli concorsi, gli chef del domani. Oggi è un'opportunità anche per i ragazzi per quanto riguarda proprio questo settore, il settore turistico, il settore alberghiero, il settore della ristorazione, che sono delle figure che mancano e che sono molto importanti. Solo con una formazione adeguata si può entrare bene nel mondo del lavoro. Spesso ci si lamenta che non si trova lavoro ma non ci sono le competenze per cercarlo. Qui invece la gente viene formata, viene formata in maniera corretta e vi assicuro che chi esce da questi istituti ed esce bene non avrà mai problemi di lavoro nel futuro. Questi ragazzi che ci mettono la faccia sono il futuro, il futuro di Gela e naturalmente sia all'istituto che ai ragazzi auguriamo noi un buon lavoro e un futuro roseo. Quello che posso dire è che l'artigianato si coniuga benissimo con la gastronomia, quindi l'arte della gastronomia e dell'artigianato insieme oggi per una bellissima manifestazione. Dobbiamo sempre ricordarci da dove abbiamo iniziato e da dove questi ragazzini stanno cercando di cimentarsi con il dolce. È una cosa molto positiva, buona per il territorio perché ci sono problematiche nel nostro settore serie, nel reperire personale in tutti i settori e questo può essere già un inizio per il futuro, per i giovani. È tutto il nostro telegiornale, termina qui per gli altri approfondimenti. Vi rimandiamo al quotidiano di Gela.it, adesso vi lascio alle previsioni meteo. Grazie per averci seguito. Grazie a tutti. Grazie a tutti.